Fin dalla gravidanza e anche già durante l'allattamento il bambino ha bisogno di essere alimentato in modo corretto. Quando i bambini sono così piccoli, per noi mamme è complicato sapere come seguire un'alimentazione completa. A volte è difficile scegliere gli alimenti e sapere quali prediligere affinché non gli manchi nulla. Per questo motivo avere una guida che ci accompagni in questo percorso è fondamentale. Le ansie e le preoccupazioni o le domande o le perplessità sono tutte da affrontare insieme, genitori con il loro pediatra, con il nutrizionista, in modo che vengano somministrati i cibi nella migliore armonia possibile. Ho pensato a delle ricette semplici e complete che vi possono aiutare in questo percorso di crescita. Vi daremo quindi tutte le risposte alle domande che vengono poste normalmente e che vi rassicureranno per poter affrontare serenamente questo percorso così importante nella vita e per arrivare a farlo in modo consapevole e responsabile finché il bambino è in grado di affrontare il mondo e di elaborare le sostanze per il suo futuro. Quello che si fa nel primo periodo durerà per tutta la vita. Grazie. Grazie a tutti.